Ciao a tutti! Oggi prepareremo il rotolo rustico alla Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero, burro morbido, uova, latte, lievito, vanillina, Nutella, granella di zucchero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro, la farina, le uova, la vanillina, il lievito e il latte. E facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 5. trasferiamo il composto su un piano di lavoro coperto con carta da forno. Stendiamo il composto tra due fogli di carta da forno formando un rettangolo. dopo aver steso lì l'impasto andremo a farcirlo con la Nutella e livelliamo bene. aiutandoci con la carta da forno adesso formeremo un rotolo. chiudiamo bene i bordi e trasferiamo su una teglia rivestita con carta da forno. dopo averlo posizionato in una teglia spennelliamolo con un po' di latte e spolverizziamo con la granella di zucchero. cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 30-35 minuti circa. il rotolo è pronto lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuoverlo dalla teglia. rotolo alla Nutella grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti